Ciao a tutti, sono Martina, ho 22 anni e mi sono diplomata all'Istituto Tecnico Turistico Grandis di Cuneo nel 2018. Questa scuola, essendo appunto un istituto tecnico, apre di fronte a voi numerosissime porte. Infatti, una volta diplomati, potreste tranquillamente decidere di continuare il vostro percorso di studi, come molti miei ex compagni stanno facendo tuttora, oppure di iniziare un percorso lavorativo, come ad esempio ho fatto io. Durante i cinque anni la scuola vi proporrà tantissime opportunità per mettervi in gioco, per poter imparare, come ad esempio i viaggi studio, ma anche le ditte scolastiche, gli scambi culturali e perché no anche gli stage e le alternanze scuola-lavoro, che per me sono state fondamentali per la mia crescita personale e per capire cosa volessi fare veramente nella vita. Io ho avuto la grande fortuna di poter partecipare a un viaggio studio, vinto dalla scuola a Malta, dove sono stata per tre mesi e dove ho lavorato in una struttura ricettiva come receptionist. Questa esperienza che porto nel cuore è stata veramente di grande crescita per me, una volta tornata ho capito veramente ciò che volessi fare. Infatti sono tornata e sono stata subito assunta da un'agenzia di viaggi di Cuno, dove tuttora lavoro. Spero di esservi stata d'aiuto e nel caso voleste ancora informazioni, potreste chiedere tranquillamente i miei recapiti alla professoressa Villosio. Grazie